Allora, oggi vediamo altre tre figure. Prima la figura di Leone. Facciamo il movimento base, che è la chiusura e l'apertura da un lato e dall'altro, tutta a sinistra e altra a destra, quindi questo effetto spirale del corpo che chiude anche. Chiusura a sinistra, apertura a destra. Poi in sceltezza abbiamo la chiusura a destra e l'apertura a sinistra. Tutto è visto, è direi che o è la chiusura a destra e l'apertura. Chiusura a destra e poi l'altro lato, tutta a sinistra e altra a sinistra. E questo è un movimento base, no? Poi le ore facciamo il spostamento del piede, che vediamo sulla sinistra, lo spostamento a destra e l'avampiede sinistra. Quindi vediamo l'apertura in base, l'apertura in avanti e l'avampiede e mi siedo leggermente dietro. Chiusura, misura, apertura, apertura. Chiusura, apertura. E poi dall'altro lato, lo facciamo. Vediamo i su, ma adesso si intende a destra e oggio dall'opiede sinistra. Initially, misura, apertura. In posizione finale, seduto, appoggio l'avampiede e apriamo le braccia. Benissimo, questa era la icone, poi abbiamo visto le nuvole con il passo. Facciamo due passi sinistra-destra, il movimento in basso con il fermo delle nuvole, andiamo portare le braccia, connessione al centro, il movimento in centro.